Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla statale Trebis Tiberina traffico intenso tra l'incrocio per la A14 e Val Savignone in direzione Viterbo. Sulla statale 62 della Cisa fare attenzione per un incidente avvenuto prima dell'incrocio di Aulla in direzione della statale 12 della Betone. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!